eccomi qua stavo guardando un cormorano incredibile e nulla abbiamo continuato il lavoro di ieri sono riuscito a perforare la coperta e veramente sono rimasto vorrei dire senza parole nel senso che adesso io mi auguro di potervo far vedere ma lo spessore lo spessore è questo della serie siamo a over 4 cm di spessore di carena sono in piena controluce aspetta che mi giro ecco qua e quindi direi che sono molto molto soddisfatto e come mi disse una persona che è venuta a vedere la carena che mi darà poi le dritte per la bea torresina sta barca qua potrà fare il giro del mondo per tre volte di fila senza fermarsi lei io vediamo ok ci vediamo alla prossima ciao ciao